E hola a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo tutorial. Cosa andiamo a fare oggi? Fare una canzone che funzioni? Che cazzo vuol dire? Ora ve lo spiego. Prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piacino a questo video. Iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che pubblico. E ne pubblico uno a settimana, quindi... Comunque, li pubblico. Commentate se volete chiedermi qualcosa, volete suggerirmi il tema del prossimo episodio. Di questo format. E se volete farvi anche un pochino di cazzi miei, potete passare da tutti i miei profili social i link. Ve li sparo qui giù in descrizione. Comunque, tornando a noi. Fare una canzone che funzioni. Funzioni nel senso che quando uno l'ascolta non ha bisogno di capirla, non ha bisogno di mettersi lì e capire il significato. C'è una canzone che ti entra in testa. È una canzone che, boom, che la senti una volta e cazzo ti rimane quella cosa che te la ricanticchi e te la ricanticchi e te la ricanticchi. Come si fa? Si parte dalla struttura. Perché la struttura di una canzone, l'ossatura comunque che compone il brano, può favorire il fatto di ricordarsela. Ma andiamo per gradi, ok? Quindi, stabiliamo un BPM. Un BPM che intrighi deve essere... Che intrighi nel senso che faccia... Che trascini l'ascoltatore. Non può essere una cosa così... Un po' più movimentato, no? Quindi a me è quello che mi viene in mente quando c'è una canzone, diciamo, che mi trascina. Quella canzone di Kesha di anni e anni fa che fa... Una volta stabilito un BPM che può essere interessante, che ci trascini, per quanto sia una cosa minima, possiamo andare a costruire una nostra struttura che ci possa stare. Allora, una canzone, perché funzioni, nel 2022, devi avere poco intro. Quindi intro cortissimo. L'intro corto, quanto lo facciamo durare? Due battute. Due battute. Intro. Mi dia. Due, due, four. One, due, due, four. Intro. Una strofa. Allora, per fare un esempio di una canzone che, dal punto di vista della struttura, funziona, possiamo ascoltare una qualsiasi canzone di Taylor Swift. Come dice anche Francesco Di Riperiani, che mi ha ispirato per fare questo video, Taylor Swift è una maestra nel fare le canzoni strutturalmente portate a essere ascoltate. Quindi facciamo una parte di strofa, non essendo così tanto precisi in quante battute farla, però diciamo che la melodia della voce deve essere uguale per due sezioni, ok? Quindi due sezioni uguali che vanno a comporre la nostra strofa. Per la strofa, la strofa deve essere, diciamo, di una durata decente che non faccia annoiare l'ascoltatore, ma che comunque sia ben scandita, ben riconoscibile. Quindi mettiamo conto, ecco, io la strofa la farei durare queste otto battute qua. Dopo, per non annoiare l'ascoltatore, facciamo un preritornello. Togliamo il basso, in questa zona qui, che non sappiamo ancora cosa è, ma noi lo togliamo già, in cui c'è l'attesa del ritornello. Quindi lo chiamiamo proprio preritornello. Consideriamo a blocchi. Primo blocco, secondo blocco. Il preritornello, quindi, durerà un blocco. Quindi arriverà fino qua giù. Poi facciamo un ritornello, semplicissimo, dove magari, sempre prendendo spunto da Taylor Swift, ogni due ripetizioni con l'accento uguale, facciamo la terza con l'accento spostato. Ok? Così da mantenere accesa l'attenzione dell'ascoltatore. Il ritornello lo facciamo durare otto battute. E facciamo in modo che l'ultima parte abbia quella famosa ripetizione con l'accento spostato. Altra cosa che potremmo fare è mettere dopo il ritornello un qualcosa di onomatopeico, del tipo... Cioè, che non vuol dire niente, che però è quella cosa che ti fa ricordare la canzone. Cioè, che te non ti ricordi come fa la canzone, non ti ricordi come fa il titolo, ma ti ricordi questa parte qua. Per fare un esempio, il pezzetto di Rihanna, della canzone che non mi ricordo come fa, che fa E questo mi fa venire in mente che la canzone è Man Down. Avete capito, no? Mettere qualcosa che all'ascoltatore faccia rimanere qui la canzone. Quaggiù ci mettiamo quattro battute di quella parte onomatopeica, un po' onomatopeica che vi dicevo. Ok, adesso completiamo la struttura usando le varie proporzioni che abbiamo usato per la prima parte. Se la prima strofa è di otto battute, la seconda strofa sarà di otto battute. Se il primo ritornello è di dieci battute, il secondo ritornello sarà di dieci battute. Questa, diciamo, che potrebbe essere la struttura della nostra canzone. Ora, guardando tutto nella sua interezza, mi accorgo che la canzone è corta. Una canzone radiofonica, o comunque una canzone che passa in radio di solito, ha una durata media di circa tre minuti. E quindi anche la nostra canzone dovrà essere di tre minuti. Quindi adattiamo la durata, il minutaggio della nostra canzone, a circa tre minuti. E come si fa? La cosa più semplice che, volendo, si può fare è moltiplicare tutto per due. E in linea di massima abbiamo detto che dobbiamo mantenere delle proporzioni, quindi moltiplicare tutto per due può essere la soluzione giusta. Però magari, andando a moltiplicare tutto per due, vediamo che il preritornello diventa troppo lungo, che l'intro diventa troppo lungo, rispetto a quello che noi dobbiamo portare a casa, ovvero il risultato che la canzone funzioni, che la canzone non ha noi, che l'ascoltatore se la ascolti tutta, che sia un divenire giusto a livello strutturale. Quindi magari alcune proporzioni possiamo giocarcele. Facciamo un preritornello più corto, perché magari otto battute di preritornello sono troppe. Lo lasciamo di quattro, magari lo mettiamo a sei. La strofa è otto, se la portiamo a sedici magari è troppo, allora la mettiamo magari a dodici. così che tutte le parti siano della durata giusta, perché comunque noi siamo partiti dalla struttura. Sì, abbiamo creato una struttura senza guardare le lunghezze, che sia un succedersi di cose che creano interesse, che possono far arrivare l'ascoltatore in fondo. Quindi, in questo caso qua, io non ho fatto proprio per due. Ho allungato la strofa e il ritornello, l'ho fatte comunque in parti uguali, li ho fatti comunque di lunghezze uguali, ho fatto il preritornello di lunghezza uguale al drop dopo il ritornello, e abbiamo coperto la struttura della canzone. Ok? Quindi la canzone adesso ha una durata di 3 minuti e 8 secondi. Che ci sta? Ah, questa è la struttura della canzone, la struttura finale della canzone. Ma, 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 alziamo ancora un pelino l'asticella. Ok? Che siamo partiti dalla struttura e questo, diciamo, era il punto di partenza. Ma il nostro fine è che la canzone funzioni. E l'ascoltatore medio di solito non ascolta le canzoni, le sente. Quindi non dobbiamo fare niente di ricercato. Deve essere qualcosa di buttato in faccia. Bam! Così, così com'è. E quindi qualcosa di semplice. E quindi userò il giro più semplice che conosco per preprodurre questa canzone. Adesso che abbiamo un giro che possa stuzzicarci l'immaginazione, alziamo ancora l'asticella. Il testo, il tema, quello che permetterà alle persone di innamorarsi della nostra canzone. Deve essere semplice, d'impatto e orecchiabile. Potrei fare qualcosa di amoroso. Sì. Però, ovviamente, sono stronzo e non è nel mio stile. Quindi farò una canzone cattiva con qualche espressione colorita in pisano o magari in toscano raccontando una storia. Farò così. E per quanto riguarda il drop, qualcosa mi verrà in mente. Ok, ragazzi. Ho scritto praticamente quasi tutto il testo e mi sono accorto adesso che restream non funzionava. Quindi voi non avete sentito un cazzo di quello che io ho fatto prima. Comunque, ve lo spiego. Allora, intro non ho fatto un cazzo. Nella strofa ho fatto un primo blocco. Questo qui. Che ci metti del tuo ghignaccia mi fa incazzare, ti incrinerei la faccia. Secondo blocco. Un'accademia ai turli una questione di fai furbi. Terzo blocco con variazione. Una... Non pensare di fai grosso che ti fa ruzzola in un fosso. Quella cosa che avevo detto per mantenere l'attenzione, no? Quindi cambiamo un pochino. Per il ritornello dove cambia tutto. Non parlare di spizzico con me che mi fai salire in crimine. Ritornello. Anche qui diviso a blocchi. Poi a quanto mi sale Primo blocco. Mi viene alla gola, mi fa male. Secondo blocco. Lo svarione primo ordiale. Terzo blocco si cambia. Qui si ritorna all'inizio. Qui si ricambia di nuovo. E qui si cambia ancora. Drop. Onomatopeico, ci ho messo i bau. E così via. Ok? Mi manca da scrivere sempre il bridge. Io buono come il pane ma non mi provocare che faccio presto a diventare un animale vado a abbracciare un pino sul viale perché se resti ancora qui va... E la preproduzione è pronta. Adesso finiamo l'arrangiamento. E miglioriamolo e facciamo tutto quello che dobbiamo fare che avete visto negli scorsi tutorial. Non ve lo sto a approfondire sta parte ragazzi perché l'ho già fatta vedere mille mille volte. Quindi se siete interessati a questa parte qua ragazzi andate sugli altri tutorial che fanno, che compongono questa serie e andate ad approfondire lì. Ok? Bene. Vediamo quindi in breve cosa succederà. One, two, three, four. Commandi. Un'academia e tu urli Una questione di fai furbi Mi fai inca... E ci metti del tuo chizicco con me Che mi fai salire il crimine Buono come il pane ma non mi provocare Che faccio presto a diventare un animale E ci metti del tuo chignaccia Mi fai incazzati e incrinerei la faccia E non pensare di fare il grosso Che ti... Bau, 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 a, 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 a Bau, bau, per boia quanto mi sale Mi fai... Il, il, il Buono come il pane ma non mi provocare Che faccio presto a diventare un animale Vai abbracciare un pino surbiale Perché sarresti ancora qui, ba Il, il, il Cane di tu ma A, 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 a Bau, 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 a, 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 a Mi sono accorto di una cosa Secondo me si potrebbe fare una variazione alla struttura Perché ovviamente noi siamo partiti dalla struttura Abbiamo fatto tutto in base alla struttura Però ci possono essere comunque delle modifiche Che vanno a far aumentare l'impatto della canzone Tipo io qua Bau, bau, a, 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 a Boia quanto mi sale Mi viene alla gola, mi fa male Uno svarione primordiale Che non posso fermare Boia quanto mi sale Cazzo se ha senso, porca troia Siamo a lavorare alla parte ritmica Boia quanto mi sale Mi viene alla gola, mi fa male Uno svarione primordiale Il, 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 cane di tu Sare di fare grosso Che ti fa più buono come pane Ma non mi provocare che fa Rinerai la faccia Un c***o del tuo chignaccia mi f*** E ci metti del tuo chignaccia mi f*** Voglio quanto mi sale Mi viene alla gola mi fa male Voglio quanto mi sale Mi viene alla gola mi fa male E ci metti del tuo chignaccia mi f*** Ora mi ci vorrebbe qualcosa tipo alla Lady Gaga Tipo a tata tata alla poker face E ci metti del tuo chignaccia E ci metti del tuo chignaccia mi f*** E' bisogno di un'ignorantata Ne sento la necessità Voglio quanto mi sale Mi viene alla gola mi fa male E ti fai salire il crimine Una volta che abbiamo finito il nostro arrangiamento C'è sempre la solita parte In cui uno deve andare a curare un po' tutte le cosine Quindi uno aggiunge Razer FX Uno aggiunge uno snare Che fa da quarti, ottavi, sedicesimi, trentaduesimi Prima dei ritornelli Così da dare un po' più di enfasi E di spinta al ritornello Che sta per partire Una volta finita questa fase qua E' arrivato il momento di cantare la nostra canzone E niente che dire ragazzi Come ho già detto Uno canta e ci mette tutto quello che vuole Se volete qualcosa di più approfondito sul canto Chiedetemelo giù nei commenti Comunque ci sono già una sfilza di video In cui faccio vedere anche più approfonditamente questa parte Diciamo la tralasciamo un pelino in questo video qua Se no da fogone tu panni Boia quanto mi sale Mi viene alla gola mi fa male Uno svarione primordiale Mi viene alla gola mi fa male Mi viene alla gola mi fa male Mi viene alla gola mi fa male Uno svarione primordiale Che non posso fermare Fermare Qual'era quella canzone Quella che faceva Tipo Bau 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 Una volta Cantato tutto E' arrivata la fase In cui dobbiamo Tra i nostri ingredienti Spero ben fatti Tirare fuori La nostra bella torta succulenta Quindi sto parlando della fase di mix Mixiamo Sarebbe un argomento che potrei affrontare in circa un video da 900 ore E comunque sarei piuttosto approssimativo E non di sicuro la persona adatta Comunque mixiamo la canzone E una volta mixata Il risultato non è male Ve ne faccio sentire giusto un pizzichino Non me ne volete ragazzi Non ho ancora idea di come sarà il video Quindi in sovrimpressione alla canzone Metterò un'immagine a caso Completamente a caso E non pensare di fare grosso Che ti fa ruzzola in un fosso E non parlare di spizzico con me Che mi fa i sali Il crimine La voglia Quanto mi sale Mi viene alla gola Mi fa male Una sbagliare prima al cane Che non posso fermare Chissà che mi partirà In ogni caso La canzone completa Con il video Che poi penserò E poi realizzerò Se tutto va bene Uscirà una settimana prossima Sempre qui Sul canale E... Basta Ciao 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 Ciao